Va in scena il 5 febbraio alla Spezia alle 21.15 al Teatro Don Bosco Il saponificarme dolce, spettacolo di Roberto Di Maio. Lucia Menappace interpreta la protagonista Leonardo Cianciulli. Sì, Il saponificarme dolce è uno spettacolo rivisto, adattato con la regia di Roberto Di Maio sulla storia della saponificatrice di Correggio, la serial killer italiana che negli anni 40 si macchiò di diritti piuttosto feroci. Io ho avuto la fortuna di fare la protagonista, avrò la fortuna spero di essere protagonista in questo spettacolo e anche così con Roberto ho collaborato per l'aiuto a regia. Vi aspettiamo numerosi, lo spettacolo è uno spettacolo molto importante perché c'è stato molto impegno da parte di tutti gli attori siamo in tanti, siamo in undici e soprattutto è un lavoro forte di gruppo un lavoro che non solo è una testimonianza storica di un evento purtroppo infelice ma ricco di storia, di colpi di scena e soprattutto farà molto riflettere su quella che è la personalità di Leonardo Cianciulli. Grazie a tutti.